Musica 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 Continuiamo, continuiamo e andiamo a conoscere gli altri protagonisti di questa gara storica il sibilo è quello di una N5 GT Turbo di quattro aggruppamento lui è Angelo Galletta, accanto a lui Giovanni Marino Angelo Galletta e Giovanni Marino, andiamo subito da Angelo andiamo a chiedergli appunto la bellezza di fare una strada così, una gara così con questa autovettura beh, il percorso si addice a questo tipo di vettura però noi siamo un pochettino agli inizi e andremo con le nostre insomma state facendo una sorta di test gara, no? non piano, perché l'abbiamo fatto solo una volta, è gioiosa, per cui non ci spingiamo più di tanto bene, 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 questa è insomma una cosa anche abbastanza saggia, no? quella di, come dire, andare un po' giusti, no? per capire bene come si comporta la vettura, soprattutto su queste strade per le quali lui ci ha appena detto, Giovanni ci ha appena detto che che è una vettura adatta, insomma esatto, e poi questa è anche esperienza non partire con troppa lina Buongiorno a tutti 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 Buongiorno a tutti